Loro nei prossimi quattro giorni insulteranno, noi nei prossimi quattro giorni governeremo, loro nei prossimi quattro giorni faranno l'elenco delle parolacce, noi faremo l'elenco di parole di gentilezza. Però, mentre diciamo questo, diciamo anche con la mite forza di chi non si ferma e di chi non molla che quest'Italia noi la cambieremo tutti insieme e che la cambieremo partendo da Bari, partendo dal buon lavoro che ha fatto Michele, ma partendo da ciascuno di voi.